In un mondo in cui tecnologia e politica si scontrano, due delle figure più influenti del nostro tempo si trovano faccia a faccia. Cosa succede quando Elon Musk, il visionario dietro Tesla e SpaceX, intervista l'ex presidente Donald Trump, che cerca di nuovo di raggiungere la carica più alta del paese? Oggi ci immergiamo in questo incontro scioccante e inaspettato che ha lasciato tutti a bocca aperta. In un mondo in cui politica e tecnologia si scontrano, emerge un'alleanza inaspettata. Cosa succede quando Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti, unisce le forze con Elon Musk, l'imprenditore visionario? Questa è la storia di un'alleanza che potrebbe cambiare il futuro dell'America e del mondo. Donald Trump ed Elon Musk, due nomi sinonimi di potere, influenza e cambiamento. Trump, il 45to presidente, conosciuto per il suo stile diretto e il suo approccio non convenzionale alla politica, non ha mai evitato la controversia. Musk, la mente dietro Tesla e SpaceX, è un uomo di ambizione illimitata che spinge costantemente i confini della tecnologia e del potenziale umano. Sebbene i loro percorsi si siano incrociati agli occhi del pubblico, hanno operato principalmente in sfere diverse. Trump nell'arena politica, Musk nel mondo della tecnologia e dell'innovazione. Ma a cosa accadrebbe se queste due potenze decidessero di unire le loro forze? Cosa potrebbe significare una tale alleanza per il futuro dell'America e sulla scena globale? Immaginiamo come potrebbe iniziare questa alleanza. È l'inizio del 2024. Donald Trump si sta preparando per un'altra corsa alla presidenza, mentre Elon Musk sta espandendo le sue imprese, puntando a fare la storia colonizzando Marte e rivoluzionando i trasporti sulla Terra. Nonostante le loro differenze, entrambi vedono un'opportunità, una chance per combinare le loro abilità uniche e la loro influenza. Con l'avvicinarsi delle elezioni del 2024, l'alleanza Trump-Musk potrebbe avere un impatto profondo sul panorama politico. La base di sostenitori di Trump, già energizzata dal suo ritorno, verrebbe ulteriormente rafforzata dalla partecipazione di Musk. La promessa di innovazione tecnologica, combinata con l'attrattiva populista di Trump, potrebbe attirare un nuovo gruppo demografico, appassionati di tecnologia, imprenditori e giovani elettori che vedono in Musk un simbolo del futuro. La capacità di Trump di connettersi con gli americani comuni, unita alle idee visionarie e all'esperienza tecnologica di Musk, potrebbe stabilire un nuovo tono per il partito repubblicano e ridefinire cosa significa essere conservatori nel XXI secolo. Tuttavia, questa alleanza attirerebbe anche un esame significativo. I critici su entrambi i lati dello spettro politico metterebbero in discussione le motivazioni dietro di essa. Alcuni potrebbero vedere l'ingresso di Musk in politica come un conflitto di interessi, soprattutto dato il suo vasto impero imprenditoriale. Altri potrebbero sostenere che l'approccio populista di Trump potrebbe soffocare l'innovazione che Musk promuove. Ma nonostante la controversia, l'alleanza potrebbe presentare una visione convincente del futuro, in cui l'America non solo guida, ma innova in modi prima inimmaginabili. Quindi, come potrebbe essere il futuro se questa alleanza diventasse realtà? Immagina un'America in cui il governo collabora con aziende private per sviluppare tecnologie all'avanguardia. La visione di Musk per l'esplorazione spaziale potrebbe diventare una priorità nazionale, con settori pubblico e privato che lavorano fianco a fianco per raggiungere obiettivi ambiziosi come colonizzare Marte o stabilire una presenza sostenibile sulla Luna. In questo futuro, l'attenzione di Trump sulle infrastrutture potrebbe vedere l'adozione diffusa delle innovazioni di Musk, come l'Hyperloop, trasformando i trasporti e riducendo le emissioni di carbonio. Le città americane potrebbero diventare centri di produzione avanzata, alimentati da energie rinnovabili e automazione guidata dall'intelligenza artificiale. L'istruzione sarebbe anch'essa rivoluzionata, con un focus sui campi STEM, preparando la prossima generazione per lavori in industrie emergenti. E man mano che le capacità tecnologiche dell'America crescono, crescerebbe anche la sua influenza sul palcoscenico globale, rafforzando la visione di Trump di una nazione forte e indipendente. Tuttavia, questo futuro non sarebbe privo di sfide. Il rapido progresso tecnologico potrebbe portare a perdita di posti di lavoro, disordini sociali e dilemmi etici riguardanti l'IA e l'automazione. L'alleanza Trump-Musk dovrebbe affrontare questi problemi direttamente, assicurando che i benefici dell'innovazione siano condivisi ampiamente nella società. Alla fine, l'alleanza tra Donald Trump ed Elon Musk rimane un intrigante e, se, uno scenario che mescola realtà e immaginazione. Indipendentemente dal fatto che una simile partnership si concretizzi o meno, essa solleva domande importanti sul futuro della politica, della tecnologia e della leadership in America. Sia Trump che Musk sono figure che sfidano lo status quo, rifiutando di accettare i limiti imposti dal pensiero convenzionale. La loro potenziale alleanza, sebbene speculativa, ci invita a considerare le possibilità di ciò che può essere realizzato quando mondi diversi si incontrano e quando visioni audaci si uniscono. Quindi, cosa ne pensi? Potrebbe davvero verificarsi questa alleanza? E se accadesse, porterebbe a un futuro migliore o a sfide impreviste? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti per ulteriori approfondimenti sulle possibilità più intriganti del mondo. Immagina un futuro in cui Donald Trump torna alla Casa Bianca e si associa con Elon Musk per guidare l'America. Come potrebbe essere? Nel video di oggi esploreremo le dieci cose che il governo Trump farebbe per aiutare gli Stati Uniti con l'aiuto di Elon Musk. Donald Trump ed Elon Musk. Due delle figure più influenti del nostro tempo. Uno, un ex presidente con una passione per le politiche di America First. L'altro, un visionario tecnologico che sta cambiando il mondo con veicoli elettrici, esplorazione spaziale e altro ancora. Ma cosa succederebbe se questi due unissero le forze in un'amministrazione guidata da Trump? Esploriamo dieci azioni trasformative che potrebbero rimodellare l'America con la loro influenza combinata. Con la leadership di Trump e l'innovazione di Musk, questa partnership potrebbe portare a cambiamenti senza precedenti in tecnologia, infrastrutture, energia ed economia. Ecco come. La prima cosa che il governo Trump potrebbe fare con l'aiuto di Musk è lanciare una massiccia revisione delle infrastrutture nazionali. Trump ha a lungo sostenuto il miglioramento delle infrastrutture e, con l'esperienza di Musk, nella tecnologia sostenibile potrebbero rivoluzionare le reti di trasporto e di energia degli Stati Uniti. Immagina una rete nazionale di Hyperloops, riducendo i tempi di viaggio tra le principali città a pochi minuti. Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici diventerebbero comuni quanto le stazioni di servizio, tutte alimentate dalle soluzioni di energia solare di Tesla. Strade, ponti e tunnel potrebbero essere ricostruiti con materiali all'avanguardia sviluppati dalle aziende di Musk, rendendoli più durevoli e rispettosi dell'ambiente. Questa revisione delle infrastrutture non modernizzerebbe solo l'America, ma creerebbe milioni di posti di lavoro e garantirebbe al Paese una posizione di leader nello sviluppo sostenibile. Il numero due nella nostra lista, rivoluzionare l'esplorazione spaziale e la difesa nazionale. Trump ha istituito la Space Force durante la sua presidenza e, con SpaceX di Musk, potrebbero portare il dominio dell'America nello spazio a nuove vette. Insieme potrebbero accelerare lo sviluppo dello Starship sia per l'esplorazione spaziale che per scopi militari. Immagina un futuro in cui gli Stati Uniti abbiano una presenza permanente sulla Luna, ponendo le basi per future missioni su Marte e utilizzando la tecnologia spaziale per migliorare la sicurezza nazionale. Con la visione di Musk e l'enfasi di Trump sulla forza dell'America, gli Stati Uniti potrebbero guidare la prossima corsa allo spazio, assicurando che i benefici dell'esplorazione spaziale, dalle nuove risorse alle scoperte scientifiche, siano sfruttati prima di tutto dall'America. Il prossimo punto è potenziare l'economia attraverso la manifattura avanzata. Trump è sempre stato un sostenitore del ritorno dei posti di lavoro in America e, con l'abilità tecnologica di Musk, potrebbero fare degli Stati Uniti il centro globale della manifattura avanzata. Le gigafactory di Tesla hanno già dimostrato ciò che è possibile. Produzione su larga scala di veicoli elettrici e batterie utilizzando automazione e IA. Espandendo questo modello ad altre industrie, potrebbero rivitalizzare la manifattura americana, riducendo la dipendenza dalle importazioni e creando posti di lavoro ben retribuiti in tutto il Paese. Dalla produzione di elettronica di consumo ai componenti per l'energia rinnovabile, questa iniziativa potrebbe non solo potenziare l'economia, ma anche garantire che gli Stati Uniti rimangano all'avanguardia della manifattura globale. La quarta azione consiste nel trasformare l'istruzione con un focus su STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Sia Trump che Musk riconoscono che il futuro appartiene a chi innova e questo inizia con l'istruzione. Immagina uno sforzo nazionale per integrare la programmazione, la robotica e l'IA in tutti i programmi scolastici, dalla scuola elementare alle superiori. Con l'influenza di Musk potrebbero creare nuovi programmi educativi incentrati sulle competenze del mondo reale, preparando gli studenti ai lavori del futuro. Questa iniziativa non solo doterebbe la prossima generazione degli strumenti necessari per avere successo, ma aiuterebbe anche a colmare il divario di competenze che attualmente frena la crescita economica. Investendo nell'istruzione STEM, Trump e Musk potrebbero garantire che gli studenti americani siano leader mondiali nell'innovazione. Il quinto punto è promuovere l'indipendenza energetica attraverso risorse rinnovabili. Trump è sempre stato un sostenitore dell'indipendenza energetica e, con le tecnologie di energia rinnovabile di Musk, potrebbero fare degli Stati Uniti un leader globale nell'energia pulita. Con un'implementazione nazionale di sistemi di energia solare, Tesla Powerwalls e progetti di energia rinnovabile su larga scala, l'America potrebbe ridurre drasticamente la sua dipendenza dai combustibili fossili. Ciò non solo avvantaggia l'ambiente, ma rafforza anche la sicurezza nazionale riducendo la dipendenza dalle fonti energetiche estere. Sfruttando le risorse rinnovabili, l'alleanza Trump-Musk potrebbe garantire che gli Stati Uniti non solo soddisfino le loro esigenze energetiche, ma lo facciano in modo sostenibile e economicamente vantaggioso per le generazioni future. Successivamente, riformare i servizi sanitari con la tecnologia. La sanità è stata una questione controversa in America, ma con le innovazioni tecnologiche di Musk e l'impegno di Trump nella riforma potrebbero creare un sistema più efficiente, accessibile ed efficace. Immagina di utilizzare l'IA per diagnosticare le malattie più rapidamente e con maggiore precisione, riducendo i costi e migliorando i risultati per i pazienti. Neuralink potrebbe aprire la strada a interfacce avanzate cervello-computer che aiutano a trattare le condizioni neurologiche. Inoltre, la robotica di Tesla potrebbe rivoluzionare le chirurgie, rendendole più sicure e meno invasive. Integrando queste tecnologie nel sistema sanitario, la partnership Trump-Musk potrebbe rendere l'assistenza sanitaria di qualità accessibile a un numero maggiore di americani, riducendo i costi e migliorando le vite. Il numero 7. Migliorare la sicurezza nazionale con IA e difesa informatica. In un mondo sempre più digitale, la sicurezza nazionale non riguarda solo le minacce fisiche. Si tratta di proteggere dati, infrastrutture e cittadini dagli attacchi informatici. Con l'esperienza di Musk in IA e l'accento di Trump su una forte difesa nazionale potrebbero rafforzare le capacità informatiche dell'America, rendendo il paese più resistente alle minacce informatiche. L'IA potrebbe essere utilizzata per prevedere e contrastare gli attacchi prima che si verifichino, proteggendo tutto dalle reti elettriche ai sistemi finanziari. Questa iniziativa non solo garantirebbe la sicurezza dell'infrastruttura digitale americana, ma darebbe anche agli Stati Uniti un vantaggio strategico in un mondo sempre più interconnesso, assicurando che la nazione rimanga al sicuro di fronte alle minacce in evoluzione. L'ottavo punto è rafforzare le relazioni USA-Messico con tecnologie avanzate per la frontiera. Le politiche di frontiera di Trump sono state un pilastro del suo primo mandato e, con la tecnologia di Musk, potrebbero implementare un approccio più sofisticato alla sicurezza delle frontiere. Utilizzando IA, droni e sensori, potrebbero creare un sistema di frontiera ad alta tecnologia più efficace e umano. Questa tecnologia potrebbe aiutare a prevenire i passaggi illegali, facilitando al contempo il commercio e i viaggi legali, garantendo che la frontiera sia sicura senza la necessità di un muro fisico. Questo approccio potrebbe migliorare le relazioni USA-Messico, bilanciando sicurezza e cooperazione, assicurando che entrambi i paesi beneficino di una frontiera stabile e sicura. 9. Promuovere la libertà di espressione e l'innovazione sui social media Trump ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla censura sulle piattaforme sociali e Musk, noto per la sua posizione sulla libertà di espressione, potrebbe collaborare per creare nuove piattaforme che proteggano la libera espressione. Immagina una nuova rete sociale dove gli utenti possano condividere idee e dibattere liberamente senza paura della censura. Questa piattaforma potrebbe anche integrare la tecnologia blockchain per garantire trasparenza e controllo degli utenti sui propri dati, facendola diventare un faro di innovazione nell'era digitale. Promuovendo la libertà di espressione e l'innovazione, la partnership Trump-Musk potrebbe creare un ambiente sui social media che favorisca la creatività, l'innovazione e i valori democratici. Infine, guidare gli sforzi globali per il cambiamento climatico con la tecnologia. Il cambiamento climatico è una delle sfide più grandi del nostro tempo e, con le innovazioni di Musk, il governo Trump potrebbe assumere un ruolo di leadership nell'affrontare questo problema globale. Promuovendo l'adozione di energia rinnovabile, veicoli elettrici e pratiche sostenibili potrebbero ridurre significativamente l'impronta di carbonio degli Stati Uniti. Inoltre potrebbero guidare gli sforzi internazionali per sviluppare e implementare tecnologie che combattono il cambiamento climatico su scala globale. Questa iniziativa non solo proteggerà il pianeta, ma posizionerà anche gli Stati Uniti come leader globale nella lotta contro il cambiamento climatico, assicurando un futuro sostenibile per tutti. Insieme, Donald Trump ed Elon Musk potrebbero creare una visione per il futuro dell'America che sia sia audace che trasformativa. Dalla rivoluzione delle infrastrutture e dell'esplorazione spaziale al miglioramento della sicurezza nazionale e alla lotta contro il cambiamento climatico, questa partnership potrebbe ridefinire ciò che è possibile per gli Stati Uniti. Sebbene questo sia uno scenario speculativo, è un potente promemoria di ciò che può essere realizzato quando leadership e innovazione si uniscono. Allora, cosa ne pensi? Un'alleanza Trump-Musk potrebbe davvero trasformare l'America? Faccelo sapere nei commenti qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti per ulteriori esplorazioni delle possibilità più intriganti del mondo. Grazie per aver guardato e, fino alla prossima volta, continua a pensare in grande! Grazie a tutti!